Davide Astori, una morte che non si poteva evitare. E' questa l'estrema sintesi della superperizia condotta dai due esperti scelti dal Tribunale di Firenze. Per far piena luce sulla scomparsa dell'ex capitano della Fiorentina deceduto ad Udine il 4 marzo del 2018. La relazione è stata consegnata al giudice Angelo Antonio Pezzuti. Giovedì è in programma l'udienza del processo. Unico imputato il professor Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi e ultimo specialista ad aver visitato il calciatore per l'ok all'attività agonistica. Secondo il PM Antonino Nastase, che ha portato Galanti davanti al giudice per omicidio colposo, Astori avrebbe dato dei segnali proprio durante le prove da sforzo nel luglio del 2017. Il giocatore morirà poi nel marzo successivo, ucciso da una cardiomiopatia aritmogena biventricolare che non sapeva di avere. Galanti ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, convinto che non ci siano state sviste nel suo operato. La superperizia, firmata dal medico legale Gianluca Bruno e dal professor Fiorenzo Gaida, pare proprio dargli ragione. I due consulenti escludono che la tragedia potesse essere evitata in quanto avvenuta nel sonno, in una stanza dove peraltro l'ex capitano dormiva da solo. Si sarebbe salvato se avesse avuto impiantato un defibrillatore, ma Astori non sapeva neppure di essere affetto da quella patologia. Non gli era stato mai applicato neanche un alter, apparecchio che, secondo i consulenti dell'accusa, avrebbe potuto identificare meglio le aritmie. Vista la variabilità di quelle aritmie, specificano i due consulenti, la probabilità che venissero identificate non era alta.